Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni dolce Spirito che santifica e i nostri cuori purifica, manda col tuo fuoco nel mondo Maria, la sorgente di olio santo, che tutti i popoli siano avvolti nel suo manto. O Ancella di Dio, benedetta e benigna donna immacolata, tra le tempeste e pacera, nella quiete eterna preghiera, Maria Santissima, donna dell'eterno pane, facci lievitare nell'amore. O donna e madre della pietà, risveglia in noi quello spirito di umiltà. O grazia, o gioia, o gloria del popolo di Israele, coraggiosa e purissima donna, in te eterno abbandono. Madre del Verbo di Dio, dolcissimo canto, aurora dei nostri giorni di pieno tramonto. Ave Maria, piena di grazia, salve Regina, madre dell'amore. Vergine dell'Eucaristia, intercedi per noi e per il mondo intero. Tale olio, che io, Regina dell'Universale Paceo e Fuso, è stato luminoso dono di mio figlio, affinché si rivalutasse questo prezioso elemento nella vita dei sacramenti. Olio, balsamo ed unzione, ed il suo significato è lenire e riparare. Vi ho annunciato che il mio olio si sarebbe diffuso ovunque, ma oggi vi dico che il mio popolo sarà consolato dalla confermazione che da esso proverrà. Madre Santa, quale immenso dono il Signore ci ha fatto, donandoti a noi come sorgente di olio santo della perennunzione, fonte inesauribile di grazie e benedizioni. Permettici, oh Madre, di sperimentare attraverso l'unzione la tenerezza del tuo cuore, la dolcezza di un tuo bacio, l'infinità del tuo amore. Toccaci, amaci e guariscici nel cuore, come solo tu sai fare, a tuo modo e con il tuo amore. Il tuo olio benedetto, fonte di luce e di speranza, raggiunga gli strati più profondi del nostro cuore, per risanarci e guarirci nel corpo e nello spirito. Raggiungi, attraverso le nostre misere mani, tutti i tuoi figli lontani, e fa che possiamo lodarti e benedirti oggi e sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci dure in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio e Madre nostra, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Padre giusto e verace, perfettissimo con l'offerta del dolore di Maria, la Santa delle Sante presso la croce, durante la vita terrena ed oggi in quella celeste, vogliate accettare la nostra umile richiesta. O Gesù, ricordati delle lacrime sanguinose e doleose, dico lei che ti ha amato più di tutti sulla terra, e che ora ti ama nel modo più ardente in cielo. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande, per le lacrime sanguinose e doliose, e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande, per le lacrime sanguinose e doliose, e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande, Per le lacrime sanguinose e doliose, e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose e doliose, e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, ricordati delle lacrime sanguinose e doliose, di colei che ti ha amato più di tutti sulla terra e che ora ti ama nel modo più ardente in cielo. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù ricordati delle lacrime sanguinose e doleose, di colei che ti ha amato più di tutti sulla terra e che ora ti ama nel modo perdente in cielo. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande per le lacrime sanguinose e doleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande per le lacrime sanguinose e doleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande per le lacrime sanguinose e doleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande, per le lacrime sanguinose e doliose, e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, ricordati delle lacrime sanguinose e doliose, di colei che ti ha amato più di tutti sulla terra, e che ora ti ama nel modo perdente in cielo. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande, per le lacrime sanguinose e doliose, e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande, per le lacrime sanguinose e doliose, e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande, per le lacrime sanguinose e doliose, e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande, per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande, per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande, per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande, per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù ricordati delle lacrime sanguinose e doleose, dico lei che ti ha amato più di tutti sulla terra e che ora ti ama nel modo più ardente in cielo. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande per le lacrime sanguinose e doleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande per le lacrime sanguinose e doleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande per le lacrime sanguinose e doleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande per le lacrime sanguinose e doleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande, per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande, per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande, per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù ricordati delle lacrime sanguinose e doliose, di colei che ti ha amato più di tutti sulla terra e che ora ti ama nel modo più ardente in cielo. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande, per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande, per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande, per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande, per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande, per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande, per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande, per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande, per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù ricordati delle lacrime sanguinose e doleose di colei che ti ha amato più di tutti sulla terra e che ora ti ama nel modo più ardente in cielo O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande per le lacrime sanguinose e doleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande per le lacrime sanguinose e doleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande per le lacrime sanguinose e doleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi O Gesù esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande per le lacrime sanguinose e doleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande per le lacrime sanguinose e doliose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, ricordati delle lacrime sanguinose e doliose di colei che ti ha amato più di tutti sulla terra. O Gesù, ricordati delle lacrime sanguinose e doliose di colei che ti ha amato più di tutti sulla terra. O Gesù, ricordati delle lacrime sanguinose e doliose di colei che ti ha amato più di tutti sulla terra. Le tue lacrime, o Madre di Dio e Madre nostra, ci ungano confermandoci figli tuoi nella solenne consacrazione che ti offriamo mediante questa devozione. Amen, Amen, Amen. Vergine dell'Eucaristia, intercedi per noi e per il mondo intero. Preghiamo O Dio, Padre di Gesù è nostro, tu che accogliendo la nostra preghiera per i meriti, le lacrime e i dolori di Maria Santissima, ci invi lo Spirito Santo per consolarci e fortificarci. Donaci di essere sempre degni della Tua fiducia e del Tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, mostraci il Tuo volto e accordaci la Tua benedizione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.